Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro telegiornale. Il nostro telegiornale politico di TVR e Tele Italia 7 Gold che ci porta all'interno del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Come il nostro solito tre argomenti anche in questa edizione. Ecco i titoli. Parleremo di territorio con la nuova legge che introduce nella normativa una disciplina necessaria per favorire la realizzazione di opere pubbliche. Parleremo poi di street art e iniziative per i giovani. Dal Consiglio regionale arriva 1.700.000 euro per i comuni toscani. E poi un bel libro dal titolo Covid, la parola agli scatti fotografici. Ma andiamo per ordine. Entriamo all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Dalla recente seduta d'aula vi raccontiamo dell'approvazione a maggioranza della nuova legge che introduce di fatto nella normativa regionale una disciplina speciale e a termine necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR e del fondo complementare, il PNC. La legge è passata con 24 voti a favore, 2 contrari e 9 astenuti. Con la nuova legge si introduce in particolare quella che può essere denominata una semplificazione dei procedimenti relativi all'approvazione delle varianti agli strumenti comunali della pianificazione territoriale oppure urbanistica nel caso in cui i progetti che incidono sull'assetto del territorio siano però connessi all'attuazione delle misure previste dal PNRR o dal PNC. Ascoltiamo i consiglieri. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. Bene, comunque un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni, soprattutto quelle finanziate dal PNRR. Le opere che devono essere realizzate in tempi celi devono avere un procedimento veloce, semplificato, via la burocrazia. Si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti, per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana. Ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione, non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione. Quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche, sono arrivati i commissari, le opere sono partite. Questa è la politica che Italia Viva ha sempre fatto, è il motivo per il quale noi con forza votiamo questa legge, consolidiamo la maggioranza. Fa piacere che anche altri partiti del centrodestra ci vengano vicino a questa posizione e abbiamo trovato una netta distanza con i Cinque Stelle. Questo certifica fondamentalmente una distanza netta di politiche rispetto a quello che a livello nazionale dovrebbe essere un partito che in realtà sostiene il governo Draghi. Noi siamo coerenti a livello di Roma, a livello di Toscana, vogliamo il PNRR, vogliamo gli investimenti, vogliamo velocizzarli ma soprattutto vogliamo fare sviluppo della Toscana, creare ricchezza e arrivare a ridistribuirla. Quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula è un problema di tipo diverso perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori e in particolare noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. Non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come penso alle case della salute ma penso anche a tante opere infrastrutturali come organi proponenti che possono essere la regione e lo Stato ma qualora non siano i comuni che i comuni siano parte decisoria, efficace e importante e decisiva di queste opere. La regione toscana partiva avvantaggiata per quanto riguarda lo spenderli bene grazie alla legge Marson, la legge 65 del 2014 che garantiva un'urbanizzazione, una gestione e tutela della qualità del paesaggio e dell'urbanistica ottimali. Era una legge faro per tutte le regioni d'Italia ma in questi otto anni la maggioranza che è stata al governo e che ha voluto quella legge non è stata in grado o non ha voluto finanziarla dal punto di vista economico e delle risorse umane per arrivare oggi col PNRR appunto a dover riconoscere di non avere le risorse, gli strumenti per poter intercettare presto questi soldi e quindi a cosa si ricorre? A un escamotage si dice che si superano transitoriamente le regole la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere ebbene io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare perché superare la valutazione ambientale e comprimere i poteri dei comuni e dei consigli comunali a cercare di analizzare quelle che è l'impatto sui propri territori di queste leggi e di quelle opere cercare di limitare temporalmente la conferenza di copianificazione e addirittura chiedere di derogare a dieci articoli un'intera legge significa scavalcarla e di fatto annullarla siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso tanti progetti, tante idee sono state presentate ma poi quelle idee, quei progetti vanno come si dice calati sul territorio per farlo bisogna rispettare le norme ebbene la regione toscana negli ultimi vent'anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici di piani, contropiani, verifiche tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 cm in regime di vincolo paesaggistico poi ad un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congeria enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica noi su questo non siamo d'accordo così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS la valutazione ambientale strategica soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR che come sappiamo è il Green Deal cioè la rinascita verde dell'Europa eliminando la valutazione ambientale strategica 1.750.000 euro a disposizione dei comuni della Toscana per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte ai giovani e alle nuove generazioni è il nuovo bando che è stato voluto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che ha deciso per queste finalità lo stanziamento di risorse derivanti da quello che è l'avanzo di amministrazione era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale e abbiamo chiamato questo bando voluto con forza a tutti i membri dell'ufficio di presidenza ringrazio i due vicepresidenti Casucci e Scaramelli e i due segretari Fratoni e Petrucci perché abbiamo deciso di individuare rigenerazione toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile oppure rigenerazione inclusiva con i parchi gioco inclusivi rivolte alle ragazze e ragazzi più giovani o quella che io chiamo rigenerazione musicale per far ripartire eventi nelle nostre città 1.750.000 euro che mettiamo a disposizione dei comuni della Toscana fino ad un massimo di 15.000 euro a progetto e con un cofinanziamento del 20% ma minimo da parte dei comuni noi speriamo che tutti i comuni della Toscana possano partecipare possiamo finanziare più iniziative, più progetti perché il nostro obiettivo è quello di restituire almeno in parte, una parte piccolissima quello che i ragazzi e le ragazze non hanno potuto avere durante questa pandemia un po' abbiamo ristorato la maggior parte dei soggetti commerciali che ne richiedevano il sostegno da parte della Regione ma i giovani non abbiamo potuto dare nulla L'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani soprattutto nei comuni, le associazioni, provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche a livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone il livello di relazione si è interrotto, è complesso oggi riuscire a ricostruirlo quindi noi dovevamo avere uno strumento che desse ai ragazzi in particolar modo delle opportunità che purtroppo la pandemia in alcuni casi e in molti casi ha interrotto andando anche a vedere i danni che si sono creati soprattutto agli adolescenti alle nuove generazioni rispetto all'impossibilità di creare una relazione con l'altro 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi e bambini diversamente abili un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello Statuto perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni future e quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata praticamente da tutti i gruppi consigliari e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno che il Palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani. Noi pensiamo che sia giusto che le istituzioni, che il Consiglio regionale e su questo abbiamo lavorato invece incentivino i talenti anche in questo ambito, nell'ambito artistico, culturale che in qualche modo incentivino la creatività delle nuove generazioni perché se è vero che la bellezza salverà il mondo è altrettanto vero che le istituzioni devono investire un po' in bellezza e troppo spesso, purtroppo, siamo portati ad affrontare specialmente nel mondo della politica le cose che non funzionano, le cose che vanno male siamo portati a occuparsi dei problemi e delle criticità ogni tanto soffermarsi invece sulle potenzialità e sui talenti specialmente dei più giovani invece fa bene a tutti, fa bene alla politica fa bene appunto al mondo perché la bellezza salverà il mondo. Ripercorrere il lockdown per accendere i riflettori su quanto accaduto e per riconoscere l'impegno di chi ogni giorno è stato e continua a esserlo in prima linea nella lotta al Covid-19 questa è la forza di virus, immagini, filtro Covid un progetto territoriale che è frutto di foto che sono state scattate dal gruppo fotografico Giglio Rosso di Castelfiorentino e dal Photo Club 2436 di Certallo il libro è stato stampato dal Consiglio regionale al patrocinio dei comuni di Castelfiorentino e Certaldo in questo libro, un libro voluto dalla giornalista Francesca Pinocchi che ringrazio attraverso delle immagini, alcuni struggenti ritorniamo indietro di due anni, ritorniamo indietro a quei terribili giorni del primo lockdown ritorniamo alle file per andare ad acquistare i beni di prima necessità ritorniamo alle piazze deserte, ritorniamo agli anziani che non potevano essere visitati dai propri parenti ritorniamo agli ospedali, alle file delle ambulanze in questo racconto c'è tutta la difficoltà di quel tempo ma c'è anche un messaggio di speranza perché se ce l'abbiamo fatta ad uscire pian piano e se ora col virus stiamo convivendo lo dobbiamo a quell'impegno collettivo lo dobbiamo alla vaccinazione lo dobbiamo ai tanti cittadini che ci hanno creduto e ci hanno aiutato a loro un grazie sincero, di cuore perché se oggi possiamo convivere con il virus è grazie al vaccino però voglio mandare un messaggio in questa occasione che è quello di non pensare che tutto sia finito di lavorare tutti insieme per rispettare le regole minime che ci siamo dati la mascherina, lavarsi le mani, la distanza perché ancora di fronte a noi ci aspetta un autunno complicato ora sta ripartendo tutto ma dobbiamo farlo nel rispetto di ciascuno di noi perché questo virus si combatte e si vince definitivamente solo se tutti insieme continuiamo a fare quello che abbiamo fatto ognuno fa la sua parte e sono convinto che presto ne usciremo e torneremo insieme a rivedere le stelle è un lavoro importante, fatto da due gruppi fotografici che ci permette di ricordare, testimonia tutte quelle che sono le vicende che abbiamo tutti quanti vissuto durante il lockdown è un modo per ricordare anche localmente che cosa è successo per averne una testimonianza negli anni futuri e poi come fa sempre la fotografia è un modo anche per raccogliere e tracciare i sentimenti che tutti i cittadini, che i medici hanno vissuto in quel periodo in quelle immagini c'è il distanziamento nei bar c'è i lavoratori con le mascherine ci sono le file al supermercato, ci sono le mascherine introvabili all'inizio della pandemia c'è tutta una serie di particolarità della nostra quotidianità in cui siamo stati catapoltati dalla tragedia del covid e che è importante ricordare e di cui è importante lasciarne una testimonianza si può raccontare tanto in maniera scritta le immagini ci daranno sempre un'emozione diversa soprattutto se fatte con questa grande competenza dei nostri gruppi fotografici il libro è il frutto del lavoro fotografico di due gruppi fotografici il gruppo fotografico Giglio Rosso di Castelfiorentino e il Fotoclub 2436 di Certaldo hanno documentato 128 giorni sono 128 foto che ripercorrono proprio le fasi del lockdown e dopo questo percorso anche di coordinamento per trovare una sequenza di immagini abbiamo avuto il sostegno da parte del Consiglio regionale per fare la pubblicazione che rimane come una testimonianza la fotografia è proprio una testimonianza del tempo di questo tempo molto difficile che stiamo appunto trascorrendo e con questo libro fotografico si conclude anche il nostro telegiornale politico che ci ha portato all'interno del Consiglio regionale della Toscana l'appuntamento alla prossima edizione tra sette giorni sempre qua dentro il Consiglio Grazie a tutti